La notte che sono partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Di giorno sono arrivato non sei venuta incontro a me Non sai quanto ho camminato tenendo a tutti cercando te Sentivo di non trovarti Capivo di non vederti Lo sa soltanto il cielo perché Dovevo proprio divorarmi di te La notte che sono partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Se adesso tu mi lasci è finita per me La notte che sono partito non ho dormito La notte che sono partito non ho dormito Lo sa soltanto il cielo perché Dovevo proprio divorarmi di te Dovevo proprio divorarmi di te La notte che sono partito non ho dormito pensando a te Avevo un po' sentimento e un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarti Temevo di non vederti Se adesso tu mi lasci è finita per me Secondo me sta male Secondo me sta bene Ma su una lampada da nave Se lo sapevo invece delle finestre ci facevo gli oblo Ma è allegra Non le fa allegria? No proprio no A me le lampade da nave mi danno solo il mal di mare Oh ecco Andrea Ciao Ciao tesoro Ciao Andrea Salve Mica male eh No dico mica male le gambe di mia moglie da sotto in su Viste in prospettiva Ma cosa voleva farti fare la statua della libertà per vedere se ci sta bene Ah beh sempre meglio di quell'orrore di lampada che vuol metterci lei L'architetto fammi piacere di non dire certe cose Mia moglie ha molto buon gusto ha sposato me Senti vuoi vedere i progressi? No grazie diciamo che mi fido di te Poi se scendo metto subito un piede nella calce riva Dai tesoro fa presto dobbiamo cambiare E la mia macchina? Te la faccio portare io a casa più tardi Ah benissimo a domani architetto A domani signora Mi dispiace caro mio ma te la devo proprio portare via Pazienza E questa lampada mi dia retta non la comperi Ne ho già comprata e sei uguali I muratori non possono far niente se non finisce il falegname Il falegname non può far niente se non finisce l'elettricista E l'elettricista non può far niente se non vanno via i muratori Sì e noi entreremo quando saranno andati via tutti quanti E cioè quando saremo due bei vecchietti come quelli del cacao talbone Ma no stamattina hanno già portato il cancello Che però non si può montare perché non c'è ancora il muro di cinta Mi dice la sedia a dondolo fa casa borghese E allora a me piace Dice scelga o me o la sedia a dondolo Scelgo la sedia Il dondolo mi calmi i nervi e lei me li fa venire Ho detto bene? Andrea mi senti o no? Sì sì ti ascolto Cosa dicevo? Parlavi dell'architetto no? Sì ma fai bene La casa deve piacere a te mica lui Senti non ti sembra un po' troppo aperto, scollato, così? Beh sta benissimo E poi c'è, bello Lasciamolo guardare no? Non bisogna essere egoisti Almeno tu sei giovane C'è quella beffana della baronessa che porta le scollature fino al ginocchio Come sei esagerato Le porta normale fino al seno Appunto Invece tu Povera baronessa Che bella moglie che ho Proprio bella sai Per fortuna non ho messo il rossetto In compenso però hai messo il vestito Senti se no non andassimo più al circo Questa conferenza No basta Andrea Mi sono già truccata Andrea dai Ma prima mi provo che tu andaci così Dunque Orbene signori in Italia il cappello non si porta più In Italia il cappello non lo si porta più Ah Però La sua utilità è innegabile Protegge dal sole Dalla pioggia Dalle tegole E dal raffreddore Evita la calvizie E se non la evita Perlomeno la nasconde Serve per salutare Per occupare un posto in treno Insomma È il turaccelo dell'uomo Il tetto della sua personalità Quando mio nonno nel 1872 Fondò il cappellificio Artusi Il cappello Era un indispensabile segno di stile Di distinzione Per gli uomini di ogni età Bene Attualmente noi fabbricanti italiani Riusciamo a produrre Tutti insieme Lavorando a pieno regime Una media che si aggira Intorno ai 50 milioni di cappelli l'anno Questa cifra naturalmente comprende Oltre i ferro Non è stato di parola Aveva promesso di mandare un bitter a mio marito Ma dopo lei ci viene a trovarmi in carcere Per assolvere questi 50 milioni Ogni italiano di sesso maschile Dovrebbe portare Signora Nunzia Ha visto che la moglie dei mariotti Ha cambiato un'altra volta il colore dei cappelli Eh già L'ultima volta l'hanno vista in macchina Con un giovanotto biondo Ora sapete dirmi dove vanno a finire Tutti gli altri cappelli? Un mio amico è andato nel Texas E si è portato in Italia Come ricordo Un cappello da cowboy Bene Arrivato a Milano Si è accorto che nell'interno c'era scritto Made in Italy Proprio così E' arrivato il momento di far sapere Che i cappelli di Richard Widman Di John Wayne E di Burlancaster Sono fabbricati ad Alessandria A Brescia E a Castelvetro Ho finito E' stato veramente bravo Complimento Ci giuro E' la prima volta Che a una conferenza del circolo Sono rimasto sveglio Eh si Infatti sbadigliavi soltanto Ah io? A tutti Interessante Che i cappelli non sono poi una Bravo così Si figuri come il dottor Garise La ringrazio È stata solo un po' di pubblicità Complimenti Grazie Grazie anche a lei Caro Andrea Le mie congratulazioni Anche tu Ah ma non credere di avermi convinto Continuerò a non portare il cappello Male Molto male Perché ricordati Che un dottore senza cappello Non dà nessun affidamento Te lo dico io Sera Bravissimo Cos'è successo a suo fratello? Ah niente Si è chiuso due dita Nella portiera della macchina Voi medici perdere due dita Non è niente Ah ma non l'ha mica persa Gli sono rimasti un po' così Stai attento C'è forma d'oro Caro Mariotti Come va? Signora Io sono uno del 20% Ah si? Bene Molto bene Complimenti Ottimista il Mariotti Non sa che la percentuale dei cornuti E' molto superiore Andrea Buonasera professore Arrivederlo Oh caro assessore E allora No non mi dire che la commissione Non sia ancora riunita Perché allora mi arrabbio Per cosa? Per il muretto E dai E quante volte te lo devo dire Che la giunta comunale Ha un regolamento edilizio E che deve farlo rispettare Ma che noie vi da un muretto? Scusate Perché vi è ostinata A chiamare muretto Una costruzione Di 50 metri per quattro Vabbè chiamiamolo a loro Questo permesso per la muraglia cinese Vabbè Ti assicuro che è quasi impossibile averlo Comunque tu prova A corrompermi E chissà E chissà che non salti fuori qualcosa Come facevamo quando andavamo a scuola E tu mi passavi il compito Io ti davo la merendina Ciao Bravo bravo Chissà che merendone ti fa adesso Filone quello lì Assessore alle edilizie Ah dottore Artusi Giusto lei Scusami cara Lo sa che devo proprio farle un rimprovero A chi? A me? Che cosa fare? Ma no era una scusa Ho bisogno del suo aiuto Per andarmene da questa noia Se lo dico io Mio marito non accetta Come presidente Si sente in dovere di rimanere E così dovrei proporlo io Guardi Io non sono molto bravo A fare queste cose E lo vendiamo? Se volete anche da noi L'importante è andarsene Da questa tomba Almeno una volta al mese La conferenza dovrebbe farlo una donna Quello che fa in casa Come impiega le sue giornate La più interessante sarebbe la conferenza della moglie di Corna d'Oro Oh come siete maligni Non so la grotteria Cosa c'è? Certo vuol piacere Cristiana Dice se poi facciamo un salto Sono noce le caviglie un po' grosse Sì le caviglie Messa proprio bene Altro che Beato chi se la gode E chi se la gode Quel broccolo del marito è vasto Niente da fare Perché ci hai provato? Io no ma si saprebbe Figurati Ma si sa se Natale va a letto con la camicia o col pigiama Immaginiamoci se va a letto con un uomo Mio marito sostiene che la cultura è un fatto di insonnia Lei cosa ne dice? Suo marito dorme molto Abbastanza Allora la signora me la porto via io Basta che me la renda presidente Ho solo quella Ci vediamo a casa Accidenti mi sono dimenticato D'andare all'ufficio del registro Vabbè ci andrò domani A cosa sta pensando? Io? Pensavo a lei Le vuole una? Grazie Le l'accendo Però mi chiamano la signora Cristiana Non me ne ero mai accorto Devo esserle anche simpatico Anch'io stavo pensando a lei La stavo osservando Il carattere di un uomo si vede anche dalla macchina che ha E che cosa vede? Macchina scatante e uomo un po' meno Ah ma allora questa vuol proprio provocarmi Eh ma non si fidi sa Guardi che io posso anche Posso anche fare il matto Guardi Eh? Ci seguono? Forse ci inseguono Li lascio passare avanti Bene Non è meglio così Da dietro si può vedere senza essere visti Ah perché lei do il parere che è meglio vedere E essere visti Oh non c'è nessuna ragione per nascondersi Non le sembra? A meno che A meno che Posso anche aver sbagliato Forse lei è capace di avere qualche scatto Mi scusi sa Non può darsi che sia meno noioso di quello che sembra Oddio proprio non ci sono dubbi E se sto zitto faccio anche la figura del fesso Beh visto che lei giudica gli uomini dalla macchina Tenga presente che la mia è i serili ribaltabili Può fermare qui? Qui? Ma dico è nata Ma io fermo Siamo arrivati Peccato Proprio adesso che cominciava a farmi la corte Vabbè possiamo sempre ricominciare È un ragazzo fiammingo della prima metà del Settecento Ho avuto la fortuna di trovarlo a Parigi Quattro anni fa Proprio un'occasione E questa spinetta viene da Venezia Poco più di due milioni È regalata Con tutti questi regali avrà speso un patrimonio Per carità Senta se deve fare acquisti per la sua nuova casa Potrei aiutarla io Darle dei consigli I mobili antichi sono il mio hobby Credevo che i suoi hobby fossero le precedenze Ne ha fatto una bella collezione lei Non è così? Credito Bresciano Ente del turismo Circolo dell'Unione Rotary Golf Club Alpino Quelli dimenti? Basta basta Non ce ne sono più Lei ci scherza Ma sapesse a volte quante seccature Spesso è proprio impossibile rifiutare Sai In una città come questa Tutto finisce per essere portato sul piano personale Comunque la mia vera passione Anche davanti al marito Non mai ho l'occhio Come se niente fosse Fando un particolare Una moda natura Il fondo di un cassetto E capisco tutto Di che cosa capisci tutto tesoro? Dei mobili antichi Ah Enrico devo lavorare solo io vero? Cosa dici? Venga Andrea Volentieri Venga ad aiutarmi Andiamo a staccare un po' di ghiaccio Se mi da anche un grembiolino Sarò una perfetta camerina No sul serio Lei non ha neanche idea delle mie virtù Lei ha delle virtù? In cucina Ho una piccola delusione per lei E cioè? Dovrà veramente aiutarmi a staccare il ghiaccio Beh con lei sarà anche questo un piacere Ssss Chi c'è? Valeria Tutto a fare 19 anni Robusta Pulizia personale un po' scarsa Lei interessa? Ma noi ne abbiamo una fissa da 40 anni Sarà una vecchia mummia ormai Vuol mettere? Venga a vedere Su avanti entri Niente male vero? Rustica ma tutta autentica Sottoveste di canapa Calze nere con elastico Sembra ci sia un luto in famiglia Niente regissino Si può svegliare? Non abbia paura Dorme come un sasso Cosa ne dice? Ma no Andrea cosa le prende? Ma no Ma non faccia così Un altro giorno Vieni qua Ti prego Ci vediamo un altro giorno Come prima mi provo Io vado con la cameriera Sai L'ultima volta che ho ballato con lei E' stato esattamente tre anni fa E' quando si è sposata Portava un abito rosso mi pare Che memoria Per me è stata anche l'ultima volta che ho ballato Andrea non è quello che si dice nato per danzare Beh mi sembra che se la cavi egregiamente E allora? Dove vuoi che ci vediamo domani? Ma lo so lo saprei In albergo va bene? In albergo? Sei matta? E' pericoloso E ci possono? Non ci possono Sta tranquillo A dieci chilometri da qui Al grande hotel Impero Nessun pericolo Arriva alle cinque precise Cerca di essere puntuale La macchina la puoi lasciare davanti alla porta dell'albergo C'è un parcheggio Trovi sempre posto Ma anche se ci sono tante altre macchine Sistema la tua con la parte posteriore contro l'edificio Così se passa qualcuno Vede solo la targa davanti Quella piccola Che nessuno riesce mai a leggere Ti fai dare una camera qualsiasi Purché non sia al primo piano Lì c'è la direzione ed è più facile incontrare gente Scrivi il numero della panza su un biglietto C'è uno scrittoio nella oltre vicino al portiere Poi consegni la busta a uno dei fattorini E gli dici di portarmela dal paduchiere L'ascensore serve anche il piano inferiore E io posso salire direttamente senza destare sospetti Ti aspetti Buongiorno Scusami sai Se mi trovi così Ho pensato di fare prima Ieso Sì No non per me L'ho fatto per te Per non farti fare tardi Di solito è l'uomo che non vuole fare tardi Senti Cristiana Ieri sono stato io ad aiutarti a rompere il ghiaccio Adesso E adesso tocca a te Mi aiuti Ecco Non mi riconosci? Ma sì Eh sì è la roba È la roba di Valeria Sì è la cameriera Ma io sono la cameriera Sono Valeria Ah sì? E allora io chi sono? Tu Potresti essere mio marito che va letto con la cameriera Ah perché il presidente è di queste distrazioni Ma che? Niente È fedelissimo Non ha nessuna fantasia Beh capirai con il presidente Eh sì proprio così Sotto veste rufida Di canapa Calze a lutto E se non sbaglio Niente reggiseno Niente reggiseno No Non accendere la luce Maria Grazia Tesoro questa non è casa tua Io non sono tua moglie Perché? Come ti ho chiamato? Finché chiami me con il nome di tua moglie Il guaio è se ti capita il contrario Pronto? Signorina mi vuol dare il 22 437 per favore? Non chiamare mai le donne per nome Di sempre tesoro Così sei sicuro di non sbagliarti Pronto? Pronto sei tu tesoro È mio marito No non sono ancora pronta Beh diciamo tra mezz'ora Va bene? Beh se tardi qualche minuto ti aspetto Senti Non ti arrabbierai mica per quello che ho fatto oggi Grave? Eh sì grave Mi sono fatta accorciare i capelli Ma di poco Vedrai Sì? D'accordo A più tardi Ciao tesoro Certo che gli erai combinata dalla grossa Farti tagliare i capelli Ma di un po' Dovevi proprio farti venire a prendere dal tuo marito Ma certo È stato lui che mi ha accompagnato qui Ah beh allora in questo caso è giusto che torni anche a riprenderti Mi figli in giro? No per carità Dicevo soltanto così Mi sembra impossibile che tuo marito non abbia dei sospetti Capirai? Un albergo a 10 km dalla città Di questo genere poi Cosa c'è di strano? La mia parrucchiera si è trasferita qui E io l'ho seguita come tante altre clienti Beh almeno la parrucchiera si è rimasta fedele Voi uomini ci sospettate solo quando siamo innocenti Ma siccome tu non sei innocente allora Mio marito non sospetta niente Io faccio il comodo mio e siamo contenti tutti e due Mi giudichi male vero? Non sono mica io tuo marito Anzi così Siamo contenti in tre Vuoi che ci rivediamo? Sì sì certo Per me anche domani Tesoro non posso mica andare tutti i giorni dal parrucchiere Mercoledì va bene? Sì Cristi Sì tesoro Bravo Ma cosa fai? No no Senti Io però un'altra corciatina i capelli Io gliela darei sai Il profumo di Cristiana E anche francese Ma no Eh sì che quando va più via Ma guarda questa maniera Ma guarda questa maniera Di lasciare segno Ma perché mordere Perché dico io Meno male che sembra una sgranatura dalla barba Alla prossima Ma cosa stai Ma qualche cosa penserà Ma una cosa cosalicha Ah, sarà una bella sorpresa, perché ho notato che sua moglie non ha la stola di cincilla Eh sì, invece io ho notato che sua moglie non porta mai cappelli Eh, l'occhio del mestiere, eh Eh già, con la sola differenza che lei per un regalo se la cava con 10.000 lire E io invece, ecco qua Beh, però questa costa un milione e gliela do per 800, un bello sconto se permette Oh, non dico di no, però io in cambio preferirei darle 80 cappelli Senta, non c'è una toilet qui? Sì, di là No, devo solo lavarmi le mani per pacco, perché ho toccato il motore della macchina Eh, si accomodi, prego Ecco, lì a sinistra Qua, grazie Mi ha cercato, signor Mariotti Ah, alla buon'ora Ho chiamato subito dopo pranzo, perché il televisore si è guastato ancora E la Ruth fa una scappata domani Domani, domani Mia moglie è rimasta a casa tutto il pomeriggio Siamo senza donne, lui ci va domani Subito ci devi andare Eh, se la signora è rimasta in casa apposta Va bene, va bene, ma non si arrabbi che ci fai Va, va, la Saru E fai le cose fatte bene Cosa vuole? Io con la televisione rotta non ci so stare E pensi che ne abbiamo due, eh? Una nel salotto e l'altra nella camera da letto E si è rotto naturalmente quella della camera da letto E lei come lo sa? Oh no, niente, così, mi buttavo a indovinare Senta, dopo lo vuole un po' di profumo Eh? No, no, per carità Già la saponetta profumata mi dà fastidio Scusi tanto Buona tena, signora Artuzzi Ciao, Giovanni È bellissima Ma perché? Però sono un po' matto, eh Perché è un po' matto? Dovevamo pur festeggiare, no? Che cosa? Eh, il coso, l'anniversario Che giorno è oggi? 12 giugno E noi ci siamo sposati? 2 febbraio Allora sono due anni, quattro mesi e dieci giorni di matrimonio Cosa sarebbero le nozze d'alluminio? Non me la conti mica giusta Non avrà mica qualcosa da nascondere questa stola? Ma dai, non dire stupiraggine, cosa vuoi? Cosa vuoi che nasconda? Ah, però ti ringrazio Io ti faccio il regalino e tu mi ricambi così Già, ma non capisco perché è proprio oggi Ti devo dire, non lo so Sarà forse perché oggi mi sono sentito un marito fortunato E per forza Ho una moglie bella, giovane, fedele Ah sì? E chi te lo dice che ti sono fedele? Eh, cosa fai? Mi strozi Senti, credi che la cena sia pronta? Credo di sì Beh, allora dia la cameriera che può mangiarsela lei Ma come? Noi usciamo, mangiamo al ristorante Poi andiamo anche al night Stasera ci divertiamo Tu metti la tua bella stola E un bel doppio petto blu Oh, guarda che paghi tu, eh Devi bagnare E poi stiamo tutta la notte le mani nelle mani Proprio come due che si vogliono molto bene Perché? Ci vogliamo bene noi due? Beh, facciamo finta di volerci Muoviti dai Come vuoi tu, tesoro? Lo sai, no? Che ho sempre avuto un debole per te Ho solo una cosa da risponderti Sii forte Ci proverò Ma il fatto è che sono sempre stato battuto dalla concorrenza Non sei mai venuto a comperare da me Hai preferito sposare il tuo caro Andrea Se un giorno o l'altro vengo a sapere che hai anche un flirt con qualcun altro Cosa farai, sentiamo Beh, certamente mi verrà un complesso di inferiorità Più che un complesso, nel caso tuo, sarebbe una presa di coscienza Dai, dov'è questa meraviglia? Ah, sì Spero almeno di avere più fortuna come antiquario È una splendida credenza Luigi XIII De Capea, sportelli e cassetti Proprio quello che ci vuole per il salotto della tua casa nuova, sai? Vedere per credere È autentica? Come i miei sentimenti Allora andiamo a Maluccio No, no, sul serio La credenza è autentica Se avessi visto in che stato era quando l'ho presa Naturalmente ha bisogno di essere pulita, restaurata Ma è un pezzo unico, sai? Se no, non te l'avrei proposto No, no, lascia, faccio io, ti sporchi Vedi? Qui c'è un cassetto segreto Se hai qualcosa da nascondere a tuo marito Lo so, le mie lettere d'amore, per esempio Mai ricevute, per fortuna Non te ne ho scritte? Beh, allora la mia fotografia Già, invece di portarla sempre qui sul cuore Lo sai che sei simpatica Cosa vuoi di più da una donna? Beh Eh no No? No Confezionati Con misticismo Oserei dire, eh? Guardi, guardi, monsignore, guardi Guardi un po' che riflessi, che lucentezza Guardi Guardi il verso del pelo Vedo, vedo Eh, naturalmente questi costano un po' più cari Sai, questo Diciamo così, è il modello classico Noi lo fabbricchiamo fin dal 48 Pensi che a Roma soltanto ne vendiamo ogni anno Quasi 5.000 Ah, capisco, ma Se avessero la falda Un po' più stretta Sarebbero, come dire Più allegri Ma, monsignore, veramente questi non sono cappelli per Da cotioni, perdoni All'ogni modo, se veramente io Io glielo faccio vedere, eh? Ecco qua Ecco Cosa le dicevo, lo vede come era triste? Beh, con tutto il rispetto è anche un po' colpa della faccia Eh sì, in parte è vero Ma i numeri li assi Eh, come no Eccoli qua, sono già pronti Dunque, dicevamo, no? 150, numero 55, è vero? Dunque 120, 58 E poi 602, 59 Dico, ne avete parecchi di capoccioni In seminario Venga, venga, monsignore L'accompagno in amministrazione Ma perché? Devo regolare subito Oh, per carità, ci mancherebbe altro Magari tutti i soldi fossero così sicuri Prego, prego, si accomodi La vostra è la banca del paradiso Grazie Prima di convincere la gente a comprare un cappello Bisognerebbe convincere a portarlo il cappello Ci vorrebbe una campagna a carattere collettivo Come fanno con la birra, con il cuoio, con le patate Perché non fa la proposta alla federazione? Ma se sono anni che lo dico Eh, non mi vogliono ascoltare Bisognerebbe trovare uno slogan, non so, per esempio L'uomo non è bello se non porta il cappello No, non questo Ma voglio dire, insomma, uno slogan per impostare la campagna Cosa c'è? C'è monsignor Angelini L'ho fatto accomodare nel suo ufficio per la firma Vado subito Grazie Le campagne collettive, eh? Già Ma le campagne collettive non servono a niente, mio caro Idee originali ci vogliono Perché non le trovi tu, le idee originali? Infatti, nel 34 Chi ebbe l'idea di mettere una lobby sul busto del Duce in piazza? Tu? Però ti sei preso due anni di confine Sì, ma intanto tuo padre guadagnò il 30% in più delle rendite Ciao Andrea Buongiorno Buongiorno Sai cosa ho trovato oggi? Ciao Il cassettone Ah Da Gabriele Da chi? Da Gabriele, che bellissimo il cassettone Ma lo credo bene, ci mancava altro che trovarsi bellissimo Gabriele Con la specie di grissina Non mi è mica molto simpatico, sai? Ah, tutto pieno di salame necchi, baciamate Consonati, anche lui ti trova antipatico Cos'è questo profumo? Il sapone di Gabriele Mi sono lavate da lui E perché ti sei lavate? Ho toccato i mobili e mi sono impolverata Ma dico, con tanti antiquari, seri che ci sono, proprio da lui dovevi andare? Perché non è serio Gabriele? Beh, forse no Oggi mi ha anche fatto la corte Ah, e scommetto che lei è anche incoraggiata Bravo Vorrei proprio sapere come hai fatto a indovinare E tu che cosa fischi? Aida, atto terzo, marcia trionfale Un vero porco È giusto il proverbio che dice Lontano dall'occhi Lontano do core Ci ha rubato la dote E la ficchia Ma era la prima volta che ci andavi? Da chi? Da Gabriele Ah, sì, perché? Già, già No, no, così per curiosità No, no, mi fate parlare Mi fate parlare Allora, scusa Come facevi a sapere che c'era proprio quella credenza? Me l'ha detto la moglie del presidente Quello sta, sta sovinando un simonio intero Eh, quando l'hai incontrato Cristiano? Al circolo non c'eri anche tu Ah, sì Scusa, mi sto a seguire Pieno di debiti fino a qua Ma come? Dopo la terza puntata ancora segui Almeno... Se non ti piace posso cambiare Per l'altra parte c'è un documentario Ricordiamo le grandi chiese romaniche del Viterbese Come San Giovanni Sai quanto me frega mia delle chiese del Viterbese Santa Maria Nuova e la Cattedrale E poi perché proprio quelle del Viterbese? Quelle del Grossetano, no? Grazie Ecco fatto Valeria e il giardiniere sono usciti per commissione Adesso siamo proprio soli Ma dimmi un po', che cos'hai? Perché? Ma scusa, ti rendi conto? Mi telefoni che muori dal desiderio di rivedermi Ma subito, oggi stesso Io faccio i salti mortali per organizzare tutto E da mezz'ora te ne stai lì senza nemmeno guardarmi Non riesco proprio a capire, sai Cosa ti è successo? No, niente Pensavo tuo marito E sai che cosa pensavo? Ma è possibile che non si accorga mai di niente? Mai, mai Ma sei un bel tipo, sai E ti riscaldi anche Mio marito non se ne accorge e basta Beh, se trattassi di una volta lo capirei Ma sempre Perché adesso Diciamocelo pure Io non sono certamente il primo Non essere volgare per cortesia E poi vorrei proprio sapere cos'è che vuoi Sembra che ti dispiace Ma cosa c'entra? Vedi, quello che voglio dire è che Se mia moglie mi tradisse Beh, me ne accorgerai subito O perlomeno avrei dei sospetti E questi sospetti li hai già? Sì No, 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 no Cioè no No, no, no Nel modo più assoluto Mai E appunto per questo dovrebbe Dovrebbe essere una dimostrazione che mi è fedele, no? Non ti pare? Perché scusa, secondo te Una moglie che tradisce il marito Può poi fingere di essere innamorata? Non è mica necessario fingere Io per esempio sono molto innamorata di mio marito Tu innamorata di tuo marito? No Ma allora scusa perché? Beh sai Così Se fossi sposata con te Forse mi piacerebbe proprio un uomo come lui Ah Vabbè tutto sommato Vi conviene che le cose stiano così Ma per esempio Mi sembra che tu non riesca a parlare d'altro Potrei anche offendermi, sai? Ma ormai sei qui con me Ma non potevi scegliere una musica un po' più all'etra? Perché? Con Vivaldi è più bello Ma dai, lascia andare, va Ma no, parliamo, parliamo Ma come fuori? Sono le auto passate Avrà lasciato detto qualche cosa, no? No Tu sai rispondere soltanto di no Non ha lasciato un appunto Vuoi vedere che risponde di no? Eccolo, sapevo Sì Ma cosa ne so io, Maria Vergine Questo se la prende sempre con me Gesù, Giuseppe, Sant'Anna, Maria Santi patroni dell'anima mia Grazie a tutti Se l'ha buttato Maria Grazie Vuol dire che ce l'aveva Se l'aveva vuol dire che lo conosce Se lo conosce vuol dire che c'è stato Ma no, è impossibile Eppure Maria Grazie all'albergo impero Come cristiana Ma no, è impossibile La prima volta che ci aspetta Ma no, è impossibile Eppure Ma no, è impossibile Eppure Ma no, è impossibile Eppure Eppure Però il colmo Tradisco mia moglie eppure sono io a sospettare di lei Ma sì, ho trovato un veplianto all'albergo E con questo, che prova è? Niente, neanche un indizio Oddio, che cosa faccio? Allora, apriti Questo l'ha segnato a parte E senza nome 32, 3, 5, 8 32 32 è la zona di Monpiano E può essere Un'altra Porca miseria Pronto che parla Pronto che parla Pronto che parla No, no, no Vai, Mosì 32 3 5 8 Ciao, Giovanni Buonanotte Come la strada, signorina Se conoscessi la strada, conoscerei anche chi ci abita, no? Allora mi do il nome dell'abbonato E' bravo, il nome dell'abbonato Ma se lo sapessi, non starei qui a chiederglielo Lo voglio sapere da lei Andrea Artusi, tua moglie è qui Ciao Ciao Come mai così tardi? Vediamo un po' se il merito ritardato riesce a indovinare Scommetto che sei andato dal parrucchiere Sì, quello di quel nuovo albergo, come si chiama? L'impero Ma come, non lo vedi? Il mio parrucchiere è Alfredo, lo sai E allora, scusa, questo che cos'è? Una pubblicità è arrivata ieri per posta Per posta? Sì Ne è arrivata anche una per te Ecco Hanno soldi da buttare Dato che abbiamo una casa, anzi due Non vedo perché dovremmo andare in albergo Eh Allora, sei riuscito a indovinare? Ho proprio una bella sorpresa per te Ah sì? Sì Ai 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 L'ultima tua sorpresa sono stati due pesci d'argento da 400.000 lire Sta tranquillo, questa volta non ho speso un centesimo Ecco qua No Siamo autorizzati ad alzare il muro di cinta come vogliamo Ma non è possibile Senza limitazioni Ma come? Scherziamo Ce l'hanno rifiutato per un anno e mezzo Hai capito quel gesuita dell'assessore? Siamo mezzi parenti Abbiamo fatto le scuole insieme Con me Per parità Non possiamo calpestare i regolamenti Arrivi tu e... Dovresti sapere che le belle donne tengono quello che vogliono Sì E tu dovresti sapere che ai mariti delle belle donne Gli possono anche girare i cosiddetti Ma come parli? Invece di essere contento? No Non sono contento affatto Ma sei strano Non avrai un po' di febbra? Ma no Non ho niente Non ti preoccupare Sto benissimo Sto molto bene Anzi no Sto male Sto malissimo Ecco Sto male Sto male Sto male Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso. Non posso. Che cos'è che non puoi? E tu allora? E no, rispondi giusto. Io ti ho fatto una domanda e tu devi rispondere alla mia domanda. Hai detto, non posso. Che cos'è che non puoi? Ho già un barile. Cosa? Parlo chiaro. Ho già un barile. Portare il barile? Cosa vuol dire portare il barile? Dai, su, parlo chiaro. Ma chi devi portare il barile? Ti do al tuo maritino chi devi portare il barile. Non avrei mica conosciuto qualche vinaio. a me. Tu tesoro, chiarisci bene? Cosa volevi dire? Scaricare il barile? Nel senso di scaricare la coscienza, forse. Ma che? Hai il fianco sinistro muto. Forse le donne ragionano col fianco destro. Chi lo sa? Mio, mio, mio! Sì, 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 tesoro. Un momento. Mio, mio, mio a me? O mio, mio, mio al vinaglio? O mio, 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 mio... Mmh? 48 Hai visto ? Anche oggi si è fatta 48 km in macchina Ha detto che andava da tappeziere Ammettiamo che abbia fatto 3 km, 3, 3, 6 Concediamole anche un'altra commissione, 12 O durante gli altri 36 km, che cosa ha fatto, dove è andata ? Prego, Pule Ecco per la firma Va bene, grazie Dov'è andata ? Eh ? Eh ? Senti Andrea, è inutile che tu insista Ti ho già detto mille volte che io di pedinare tua moglie non me la sento Va bene ? Prima perché mi ripugna Poi perché è una cosa assurda Se tu sei pazzo, queste cose te le fai da te Io non posso, chiaro ? Va bene, basta, non ne parliamo più Però un povero marito avrà diritto di sapere dove va sua moglie No ? Poi accidenti, 38 anni, il primo favore che ti chiedo Ah si ? Il primo ? Ah 38 anni di favore vorrei dire, il primo Il primo me l'hai chiesto quando avevi ancora i calzoni corti Avevi rubato 5 lire dalla cassa Io ti pizzicai E tu mi pregasti di non dire niente a tuo padre Ladro Ah no, basta, stop Argomento chiuso, eh ? Grazie A proposito, domani facciamo la verifica di cassa, eh ? Come ? Dicevo, domani facciamo la verifica di cassa Domani ? Sì Scusa, che fretta c'è domani e domenica ? Beh, e con questo ? Non lo sai che c'è il torneo di bocce ? Eh, a me cosa me ne importa del torneo di bocce ? Qui i favori non se ne fanno più a nessuno, deciso Allora è un ricatto Ma che cosa credi ? Belisario, che a me faccia piacere ? Cerca di capirmi, Belisario Aspetti Ecco, fermo, fermo qui Grazie Io Scusi, per favore, salirmi dove viate ? Hai sentito a nominare ? Eh, a che pressa Ehi, lei, signore Buongiorno, buongiorno Hai contravenzione ? Ah, sì, scusi, ho una gran fretta E me no ? Sì, no, ma io ce la vorrei E va bene, quant'è ? Mille lira in tre secondi ce la caviamo, su E' più di mezz'ora che se infilate in una libreria E ancora non si decida di uscire No, no, da qui si vede tutto Sta tranquillo, non perdo di vista un attimo il negozio Ma sì Ma sì, ha fatto solo delle commissioni Non ha incontrato nessuno, non ha visto nessuno Hai capito ? E allora che faccio ? Eh ? Se non esci, resto qui tutta la notte Eh, ma dovrà ben chiudere la libreria, no ? Sì, sì No, per il resto tutto a posto, eh ? Sei stato attento, non ha incontrato nessuno Sicuro ? Andrea, sono qui Torna indietro, imbecille Maria Grazia ? Sì ? Che libro hai comperato ? Come ? Hai comperato dei libri ? Ah no, sono andata a Lupin Sai che ho incontrato ? Peppino, il figlio dell'avvocato Maimone, tu lo ricordi ? Poi ho visto il figlio di Caterina Sai la cameriera di casa mia ? Ah sì ? Si è fatto un giovanottone, quasi non lo riconoscevo Cosa fai con i Kleenex ? Ah no, credevo fosse il libro Sai, mi ha offerto anche il gelato Ah, insomma è stata la giornata degli incontri E questo è niente Sai chi ho visto per sette otto volte ? Chi ? Belisario Però lasciamelo dire un bel perditempo Figurati che è rimasto venti minuti davanti a un'edicola Si è quasi fatto investire due o tre volte Poi si è preso anche una contravenzione perché è passato col rosso Pensa, l'ho seguito per più di mezz'ora e nemmeno se ne è accorto E tu trovi tutto questo da ridere ? Io lo licenzio, lo licenzio E' inutile, quando il personale è vecchio, stanco E' meglio che vada in pensione E' meglio che vada in pensione E' meglio che vada in pensione A loro ho fatto bene a seguirla. A loro ho fatto bene a seguirla. Ripinito con pizzo Valenciennes e tralci di roselline in passamaneria. E il modello Chiarichetto, baby doll in tessuto territorial cotone, guarnito da prezioso pizzo in titta. E ora altre due creazioni image della serie Ritorno all'Antico, Jolie e Lorelay. Il modello Jolie è costituito da una cappa di traspir nylon rodiatoce color zampiro. Con corta manica rifinita di pizzo di calè. Andrea, cosa c'è? Come? Come mai sei qui? Beh, passavo così, per caso. Signora. Lo vedi che sei l'unico uomo qui dentro? No, no, no. Ci sono anche quei due, guarda. Poi pensavo di trovare un po' di tovagliati. Camicia scivolata, color vincine. Hai già scelto quel di cosa? No. Camicia sovvigliata. Mica male, prima. In traspir nylon color verde acqua, con profonda scollatura e ricca incrostazione di pizzo. Però sarebbe stato bello. Che cosa? Che tu mi stessi sorvegliando davvero lì all'albergo. Sì, sono proprio io il tipo. Quando si vuole bene si è sempre un po' gelosi. Perché? Avrei un motivo per esserlo? No, assolutamente. Ma io per esempio lo sai che sono un po' gelosa di te? Beh, ma così, senza ragione. Non lo so. Da un po' di giorni non stai mai in fabbrica. Appena esco esci anche tu. Se telefono, Belisario dice che sei fuori e non sa dove sei andato. Non posso raccontare tutti i fatti miei a Belisario. Certo, ma tua moglie non è Belisario. Beh, sai, vado per lavoro. Risco dalla fabbrica. Non voglio sapere niente. Io mi fido ciecamente di Andrea. E tu ti fidi ciecamente di Maria Grazia? Sì, sì. Sì. E invece no, non mi fido. Sì. 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 E con questo di ghiaccio non ce n'è più, grazie a Dio. E il whisky come lo servo? Liscio? E se non ci piace si prenderanno una ragione. Ah, per me? Gli invitati sono i vostri. Ce lo voglio chiedere a Don Mario. Se non è vero che a bere whisky si fa anche peccato. Mi dà uno scotch, per favore? No, lasci. Bevo il mio, così leggerai i miei pensieri. Credo proprio di conoscere. Ah sì? E cosa ne dici? Beh, non sono poi tanto originale. È possibile che voi uomini non sappiate pensare ad altri. Ci sediamo? Sì. Sacco di gente, eh? Guarda un po' questo cappellaio che razza di villa che si è fatto. Beh, io certo di soldi non ce n'ho messi. L'ultimo cappello che ho portato è la cuffia. Ho delle sedie di ferro del 700 napoletane. Qui in giardino starebbero benissime. E per la piscina non ce l'avresti un bel trampolino del 600? La raccomando, Maria Grazia. Prima voleva i finti ruderi romani. Poi è finito per metterci i rampicanti, tanto per guastarmi il ritmo della facciata. Prego. Allora beva per dimenticare. Complimenti. Grazie a su con un gusto straordinario. Si sente il tocco di Maria Grazia. E cosa ne sa lui del tocco di Maria Grazia? Buonasera, come sta? Bene, grazie. Sera. Ma almeno le gambe se le potrebbe coprire, no? Eh, tira ancora più su. Certo che con una moglie come quella potrei stare veramente tranquilla. Buonasera, signora. Sera. Buonasera. Buonasera. E quello lì cosa vuole? Adesso ti porto anche il binocolo, eh? Ce ne sono accorti anche i mariotti. Chissà il vereno che stanno tirando fuori. Maria Grazia è in forma, eh? Stasera è proprio bella. Bella e onesta. Tu in una donna così ti do... Mi ci dovrai specchiare, ho capito. Ah, parlavamo proprio di suo amore. Ah, sì. Ha tutte le qualità. Lo dico sempre a Wanda che dovrebbe prendere esempio da lei. Visto bene tutto? No, dicevo, si è visto la villa. Le piace? Il giardino, il giardino, la piscina. Vero che le piacciono anche le donne, molto. Mi tolgo una curiosità, lei è mai stato a Parigi? No. No? Ci vada, dato che lei apprezza. Sa perché certe volte noi ci montiamo la testa per un pezzettino di cosci, mentre invece a Parigi tutte nube, completamente, da capo a piedi. Ci vada a Parigi, ci vada. Però mi sembra proprio che dopo la svolta sinistra, ho visto così ostentato. Signore. Buonasera. Siamo a sorridere, non le più. Una volta tanto a Gabriele ha raccontato una berzelletta divertente. Andrea forse la sa, magari me l'ha raccontata proprio lui. No, non credo, io non racconto mai. Due amici si incontrano e uno dice, sai, ieri ho visto tua moglie. Ci siamo fatti tante risate, ma tante risate che quasi cadevamo dal letto. A me non mi fa ridere, mi spiace. Io la trovo divertente. Scusi, lei è sposato? No, lo vede, questa è una berzelletta che fa ridere soltanto gli scapoli. E allora signora, abbiamo una promessa? Ah sì, certo professore. Non pensate male, andiamo soltanto a visitare il piano superiore. Venite anche voi? Come dottor Calide? Assessore? Mi scusi. Però guardate che mancano ancora tante cose. Il camera da letto, per esempio, cioè quanti sono in letto? E quello è l'essenziale, no? Prego, grazie. Grazie a tutti. 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 Le ore 21. in sosta in via del castello. in via del castello un uomo sposato. Maria Grazie a tutti. 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 reframe a tutti. Hai detto qualcosa? Io niente. Eh già. Naturalmente, tu non hai niente da dire. Io no. E io invece si. Ho molte. Molte. Ma molte cose da dire. E allora anche io? Se lo vuoi sapere? Tanto per cominciare, non sapevo di aver sposato un pazzo irresponsabile. Ah si eh!? Il pazzo irresponsabile sarei io. Comodo, comodo girare la frittata Intanto tu non hai saputo difenderti di fronte a 15 persone Difendermi da che cosa? Eh, lo so io Loro scherzavano, sei tu che hai perso la testa Quando eravamo nell'altra casa Io ho sempre lasciato la macchina nel garage del capellificio Ah, si? E mai dopo le otto E allora la macchina della contravenzione che cos'era? Una macchina fantasma? E non è la sua cosa Ricordati che io non sono come il cuoco del convento E gli toccano la moglie e lui contento Con me i frati non battono un chiodo Ma cosa stai dicendo? Lo so io quello che dico E tu lo sai meglio di me Comunque io non escludo nessuno, per principio Senti, non è possibile Ti è davvero successo qualcosa? E se anche mi fosse successo qualcosa? La colpa di chi è? Mia? Ma quale colpa? Non gridare! Allora parla Qui c'è una sola persona che ha diritto di gridare E sono io, capito? E lei non continua ad andare giù e giù Ma si, poi cosa grido a fare? Tanto tu neghi continuamente, anche l'evidenza Poi la colpa è mia E' logico, troppa libertà Fanno bene in oriente Mogli sotto chiave E guardiani castrati Bene, se cerchi le forbici sono nel cassetto del Trumont Dottor, vado a rabere il cancello No, prendo quella L'Alfalec non la sa guidare così fregata Porco giù del blocco a sterzo L'Alfalec non la sa guidare così fregata Di un po', ma tu la fidanzata ce l'hai? No, dottor, non ce l'ho Ma le ragazze li piacciono? E' certo che mi piacciono E di un po', ti piacciono così le donne di servizio oppure anche le signore? No, no, dottor, le signore non ce l'ho cose per mia Boh, ci sono anche quelle che ci stanno, sai Beh, l'uomo è uomo, no? Bravo, mi piaci, sei un ragazzo in gamba Grazie, dottor Domani lo licenzio Benissimo, stia tranquilla, signore Salve, Mariotti Oh, buongiorno Buongiorno, mi raccomando, signore Non sarà mica arrabbiato ancora per la faccenda di ieri sera Così, figuri, non parliamone neanche A proposito, guardi, ho cambiato idea, sa? Per quei tappetini di cui mi ha parlato Ah, allora non sono il solo, anche lei ripensa alle cose No, volevo soltanto fare un regalo a Maria Grazia Ma ha avuto uno scatto di nervi E allora è giusto che cerchi di farmi perdonare Ma certo, la capisco benissimo Guardi, guardi qua, che meraviglia, eh? Questo qui foderato viene un tappeto splendido Bello, bello Bellissimo, eh? Eh, sì No, non vorrei che qualcuno ieri sera avesse potuto equivocare Sa, per quella faccenda Lei sa com'è pronta la gente a far subito delle malvincenze A fare delle chiacchiere Lei poi è uscito con loro, quindi avrà sentito tutto, immagino, eh? Beh, proprio insieme a tutti gli altri, no, io ero un po' distante Vabbè, dico, ma ha sentito che cosa hanno detto? No, non chiama interessi, per carità Non si preoccupi Quando si ha una moglie giovane, bella, una bella casa Gli affari vanno bene, bisogna sopportare un po' di maldicenza Sapese quante ne dicono di me? Beh, quando c'è una ragione, lo capisco No, dico, nel caso mio di Maria Grazia Di ragioni non ce ne sono proprio No, sia ben chiaro, io per Maria Grazia potrei mettere le mani sul fuoco, eh? Assolutamente No, no, sul serio Oddio, certezza al cento per cento non c'è mai, questo si sa Piccolo, piccolissimo dubbio rimane, no? Bah, sì, è naturale Per quanto? Per quanto? Bah, oddio, in certi casi piuttosto che il dubbio è preferibile la certezza Beh, ma come si fa ad avere la certezza della fedeltà della propria moglie? Sì, è difficile, ma si può essere sicuri della sua infedeltà È vero? Eh, sì Meglio che il dubbio, almeno credo io Parlo per me, capisce? Guardi, durante la guerra stavo al distretto E avevo un brutto incarico Ero io che dovevo dare la cattiva notizia alle famiglie Beh, i pareti dei morti dopo un po' si rassegnavano Già Ma per quelli dei dispersi cominciava il dubbio, la speranza C'è chi aspetta ancora dopo vent'anni Sperano sempre Beh, certo, in quei casi lì Ma non si faceva così per dire, eh? Poi io non ho nessun motivo per avere dei dubbi su Maria Grazia, e quindi? Beh, meglio così, no? Dunque, con questi tappeti cosa facciamo allora? Ah, ma ci rifletta con comodo E poi ci si inciampa sempre Si ricordi di sua cugina? Giordo E là che feleba Ehi, Stafuno, dove è? Perché che fomi i balletti verdi? Signor Andrea Le briose erano finite Ci ho portato i due cornetti I cornetti li porti a tuo padre Vai, 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 via, via, via Via! Non prendo più il caffè Pronto? Pronto? Pronto! Pronto! Ma che è lui Controlla se sono ancora in casa Ma perché? Gli avessi dato almeno una ragione Certo, è terribile sopportare la gelosia di un uomo senza nemmeno il vantaggio di tradirlo Mi fa rabbia sentirti parlare così E poi non credo che sia un vantaggio Hai mai provato? No E allora Damiretta va là Ma è ingiusto, lui sa bene che non so dire le bugie Non le sai dire perché non ne hai mai avuto bisogno? C'è gente che non sa nuotare Ma se la butti in mare impari immediatamente Ti sbaglio, affogherei Lo dicevo anch'io tanti anni fa Oggi potrei fare a nuoto la traversata della manica Signora Andrea, a che ora vuol pranzare? Quando vi pare, tanto io non esco Neanche io esco E cosa preparo? Ma cosa ne so io? Lo chiedo alla signora Io non ho appetito Chiedo al signore Ma per me io posso anche andare a mangiare al ristorante Dice la signora che può andare a stoffegarsi dove vuole Non l'ha detto ma sono sicura che lo pensa Dice la signora che può andare a stoffegarsi dove vuole Ma è una cosa che può andare a stoffegarsi dove vuole Dice la signora che può andare a stoffegarsi dove vuole Dice la signora che può andare a stoffegarsi dove vuole Guarda che miseria è rimasta su Signora Andrea ma sono ancora crudi Li ho appena messi No, no, li ho assaggiati io, sono al dente Aspetti che le prendo una zuppiera Ma non li condisci Ma no, lascia fare, li condisco io Signora Andrea ma come Ma è presto Sono solo le sette Mi dispiace cara Mi dispiace davvero Ma adesso devo proprio andare via Allora mi prometta che tornerà a trovarmi Mio marito non è quasi mai in casa E io ho tanto bisogno di un po' di compagnia Eh sì, ho capito che stai attraversando un periodo triste Ci vedremo più spesso, te lo prometto Posso presentarle mio marito? Molto piacere signora Artusi Piacere mio reverendo Signora, la vogliono al telefono Chi è? Ma a dir la verità non ho capito Sei ancora mia Ecco prenda Ciao, come stai? Io niente Dimmi Dimmi tu Ti ringrazio perché Quando vado via Ciao aspettare E vai Ti assicuro È di un facile eccezionale Una via di mezzo tra il surf e il tamurè Quando venga a trovarti te lo insegno Forse è meglio che passi il periodo di lutto Ma perché? Posso anche capirti, guarda La certezza La prova matematica Tutto quello che ti pare Però mi sembra che la cosa non stia in piedi da nessuna parte E perché? Ma come perché? Sei anche cretino E te lo dimostro Supponiamo che io accetti questa tua assurda proposta Da domani comincio a frequentare casa tua E faccio la corte a Maria Grazia Prima ipotesi Maria Grazia mi respinge Tu cosa hai risolto? Niente Può rifiutare me E poi andare a letto col primo fattorino che porta un telegramma Già E se invece si verifica il caso contrario? E cioè Mia moglie viene a letto con te In questo caso ti pare che lo vengo a raccontare a te? Mi faccio gli affari miei e sto zitto Brava Bella amica E tu saresti capace di farmi una cosa simile? Ma dico sei stato te che me l'hai proposto no? Di un po', i tuoi come stanno? Benissimo, grazie Tua moglie? È a cortina Sola? Sì Sola Io di mia moglie mi fido Lascia, lascia, prendo io Buon viaggio, Nessio Dio amico Fermi, fermi qui Ma dici, non doveva partire? No, sono arrivate Venga E che grazie, eh Grazie Allora lui mi fa Ma non ci piace ballare? Vuole che facciamo due passi? E te stupida ci sei cascata Foto Cosa dovevo dirci io? È due mesi che mi faceva il filo Anche la rosetta diceva Cos'è che? Cos'è che? Cos'è che? E io che ci ho detto anche un Ave Maria Perché prendeva l'aeroplano Signora, ma cosa fa? Va via Sì, esco E quando torna? Non lo so Comunque vai a letto Non aspettarmi Forse sto fuori Tutta la notte Ma tu guarda Sì, non lo so Non perda di vista quella macchina Ma dove andiamo? Alle mura del castello Tenga Grazie Andrea Andrea Basta, finiamola, non ne posso più Dove stai andando? Non lo so Però quando sei uscita lo sapevi, eh? No, mi sono accorta che la tua partenza era soltanto un tranello Mi ha fatto rabbia o ho pensato di vendicarmi Ero sicura che mi avresti seguito Troppo comodo, cara mia Questo lo dici adesso perché mi hai scoperto Ma non lo vedi come ci stiamo comportando? Perché non cerchiamo di aiutarti? E va bene, aiutiamoci allora Cosa credi? Non voglio altro Dipende solo da te Guarda, io sono disposto a dimenticare Sono disposto a perdonare Ricominciamo pure tutto da capo Però voglio la verità, capito? Voglio la verità Devi confessare tutto Non ce la faccio più Senti Andrea, io non sono migliore delle altre Ma di una cosa sono sicura Se un giorno mi innamorasi di qualcuno Credi mi saresti il primo a saperlo Troverai il coraggio per dirtelo Ma tu pensi che una donna possa perdere il marito E rientrare a casa come se niente fossi? Sì, 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 lo credo, lo credo E te lo dimostro anche, guarda Se io mi mettessi a gridare Attenta, arriva tuo marito Vedresti metà di queste macchine schizzare via Io lo schizzerei via Ti aspetterei, ti direi tutto E dimmelo allora Parla E va bene, sono ammalato, sono matto, d'accordo? Ma allora se sono ammalato, se sono nato Perché non cerchi di curarmi? Perché non cerchi di guarirmi? Perché? Piano, Andrea È il dubbio, capisci? È il dubbio che mi fa impazzire La certezza invece, la realtà Per brutta che sia Attento Anche chi non crede in Dio Sa che la confessione e il perdone Stingono la colpa Tu dici di essere religiosa Scommetto che don Mario Che non gliene prega niente Ti l'hai detto Non corre così, ho paura E allora parla Parla Voglio sapere con chi mi hai tradito Ma così ci ammazziamo Meglio così la finiamo tutti e due Voglio la verità, hai capito? Ma quale? La verità è Capito, Andrea è il muro Abbi almeno questo coraggio Dimmelo, io mi calmo Con chi? Con nessuno Dimmelo Avanti Su, questa verità Dimmelo Dimmelo che mi tradisci E dimmelo Sì, 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 ti tradisco Con chi? Il carretto Stagliamo il carretto Voglio sapere con chi Con Gabriele Ma ti puoi governati Per carità Allora è vero? Che cosa? Che mi hai tradito con Gabriele Sì, è vero È tutto vero Lo vedi? Cosa ci voleva? Adesso posso anche parlarne Cercare di capire Ridicolo Mi sembra come di essermi liberato Da un peso Vedi un cieco Quando riacquista la vista È contento di vedere Non gliene importa di che cosa vede Sì, insomma Ci si rassegna tutto Anche alla morte I dispersi invece Aspettano ancora Sì, con la verità Si può rimediare qualsiasi cosa Oddio, non dico che mi faccia piacere Questa no Ma perlomeno non sto più lì a tormentarmi Quello che hai fatto è fatto Non ci si pensa più Adesso so come stanno le cose E tutto è più semplice Sono calmo E ho messo il cuore in pace Ma con quello no Con quello no Per Dio Con tutti guarda L'avrei ammesso Ma con quel disgraziato no No, capisci Troppo comodo, cara mia Sono l'amante di Gabriele, sì E io che cosa faccio? Vi do la santa benedizione Vengo a rimboccarvi le coperte E a cantarvi la minna nanna, vero? No, cara mia Con Don Mario Te la puoi chiamare Con sette, otto, avea marie Ma con me no, capisci Perché io ti ammazzo Basta Non è vero niente Vi ammazzo tutte e due Stai quel prodotto Vieni qua Parli ammazzi Va, 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 va Sì, va Va pure No, no 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 Maria Grazia Maria Grazia La signora Andrea cosa succede? Che lascia andare Che lascia andare Non le faccio niente Dove va? Italia Maria Grazia Maria Grazia Maria Grazia Di amarlo Ma figliola cara Come si fa? Lei confessa di avere un amante Inventa una relazione E poi pretende che suo marito se ne stia bello calmo Eh L'ho dovuto fare per evitare il peggio Sembrava impazzito Può darsi Ma di solito si fa il contrario Dico bene, Palmira? Ma Di simili porcate non me ne intendo Diceva che solo così poteva sentirsi tranquillo E invece se non fossi scappata mi avremmo uccisa Ne sono sicura Su, su, su cara Stia calma adesso Lei per questa notte resterà qui Poi domani si vedrà Va bene? Povera creatura Ma lo so io Di chi è la colpa? Sì Sei stato tu Sei stato tu Pancaldi Non so che sei nascosto là dentro De ferra di lì Sporco fascista Palmira Palmira Perché non preparo un buon caffè qui alla signora? Eh? Sì hai ragione Ma non sarebbe meglio una tazza di camomilla? Eh Certo che l'emai Ci vuole un calmante E lui dice caffè Un calmante ci vuole Non si impressioni Non è niente Basta interromperla Cambiare discorso E torna subito normale Mi scusi Andrea Non mi aveva detto niente Non lo sa Le poche volte che l'ha vista Era sempre in buona Quando non hai i suoi momenti È una donna normalissima Sa Ma è da molto tempo Beh Vedi Non è mai riuscito a condurre a termine un parto E così dopo il quarto aborto Quelle Pancaldi che nomina Era il professore del reparto maternità E poveraccio Cosa poteva fare lui? Da allora Qualunque cosa succeda Se la piglia sempre con Pancaldi Lo insulta Lo minaccia Mi sputa in faccia Anche per la morte del Papa Sapesse quanto gliene ha dette Vede Ho dovuto perfino vendere il televisore Perché tutte le sere Litigava con gli annunciatori Mi spiace se l'avete saputo No, no, no Non si preoccupi Stia tranquilla Anzi Ha fatto benissimo a venire qui Io sono con lei sa Voglio molto bene ad Andrea Ma non lo capisco Forse perché quelle che come me Hanno da pensare ad altro Considerano la gelosia un lusso Di chi ha soldi e salute E chi sarà a quest'ora Pronto? Ma sei tu Pannina? No No, è perché avrebbe dovuto venire qua Quando? Va bene, va bene Veniamo subito Ecco fatto Lasciamolo riposare Tra due ore Gli faccio un'altra puntura C'è pericolo di complicazioni, dottore Non le sembra che ce ne siano state già abbastanza? La frattura è niente È il suo stato d'eccitazione che mi preoccupa Anche lei però non scherza Guardi lì Se avessi vent'anni di più La farei io una bella paternale a tutte e due Mi scusi Il dondolo mi distende i nervi Lo uso come tranquillante Vuole bere qualcosa, dottore? No, no, grazie Io non credo di essere una buona compagnia Se vuole un giornale, una rivista Grazie, no Ma cosa devo fare? Me lo dica lei, che colpa ne ho io? Su, 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 sia brava Andiamo, si calmi Io lo capisco, Andrea Se avessi una moglie così Sarei geloso anch'io Eh sì Sono crisi che si curano col tempo Qualche giorno E tutto sarà finito È già tutto finito Non si può voler bene a chi non si stima E non si può stimare uno sconosciuto Andrea non è più l'uomo che ho sposato È uno che non conosco E non voglio conoscere Sa dove è arrivato? A proporre a un suo amico di farmi la corte Per mettermi alla prova Ma perché poi le racconto queste cose? Beh, ma è logico Le racconterebbe a chiunque Ha solo bisogno di parlarne Forse è così Nella prima volta che io Niente, mi scusi Ma prima non mi aveva offerto qualcosa da bere? E lei ha rifiutato Beh, adesso accetto Ma cosa le do? Qui non c'è più niente E lei ha rifiutato E lei ha rifiutato E lei ha rifiutato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Finalmente sono riuscita a pescarti. Sono dieci giorni che ti telefono. Dove ti hai ricacciato? Sono tornato da Londra solo stamattina. Che sta succedendo da voi? Ho sentito parlare di un incidente. Non sarai mica rimasta vedova per caso. Dai, non scherzare. È successo qualcosa di molto grave. Credo di aver combinato un guaio. Un grosso guaio. Ti giuro, Gabriele. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Non ragionava più. Per non finire schiacciata contro un albero, gli ho detto. Capisci? No, proprio niente. Cosa gli hai detto? Beh, gli ho detto il nome. Sì, il primo che mi è capitato. Sì, insomma, gli ho mentito. E gli ho detto che lo tradivo. Che lo tradivo con te. Con me? Tu l'avresti tradito con me? Un momento, come sarebbe? Lui sarà completamente matto, ma anche tu non scherzi, eh? Oh, ti ringrazio di aver pensato a me. Ma non lo potevi fare a un altro, questo per regalo? Lo so, lo so. Hai ragione. Ma dimmi tu, cosa dovevo fare? No, no, dimmi tu cosa devo fare io. Ma quando mai noi due? Se non ti ho neanche toccato con un dito. Ci fosse stato qualcosa, capirei. Cioè, no. Non capirei lo stesso, ma almeno... Invece così, con un solo rischio di farmi sparare da tuo marito. Ma allora non è vero? Cioè, è vero che non è vero? E che io sono un pirla? Gabriele, ti prego, adesso non comincerai anche tu a complicare le cose? Ma sì, ma sì, avrei anche ragione. Buongiorno. Ma tu non sai... Salve. Ma cosa vuoi che gli dica? Vado su, ci vediamo dopo. Tu credi che non abbia tentato tutto? Ha fatto il fatto che da venti giorni non ci rivolgiamo più la parola. Avanti! Allora, come va oggi, eh? Oh, salve. Bene, bene. Meglio. Però hai una faccia che non mi piace, sai? Ma cosa hai fatto? Ehi, ma sei tutto sudato. E senti che razza di polso? Vorrei vedere te al posto mio. Che cosa vuoi dire? Niente, sono contento. Sono contento. Beh, ho l'iventi 44. Sì, ma guasta. Domani la cambio. Hai capito come l'avevo ridotta? L'ho fatto confessare di essere colpevole, sai come... come voi poleracci sotto le botte della polizia. Io vorrei solo sapere adesso cosa aspetti a chiederle scusa. Eh, sì, una parola. Non è mica facile, sai. Eh, cosa le dico? Guarda che siccome intercettavo le tue telefonate, mi sono accorto di essere un sbagliato. Eh, dalla figura faccia. Ne hai fatte tante. Una più, una meno. Ah, lei puoi dire della contravvenzione. Che hai saputo che la 600 di sera la prendeva Giovanni per andarsene con la ragazza. No, no, no. Sarebbe anche questo una prova di mancanza di fiducia. Sono 20 giorni, sai, che non ci parliamo. Eh, non posso andarla a dire improvvisamente. No, no. Ma meglio prendere le cose con calma, tempo al tempo. Una parola oggi, una domani. E così finisci il discorso a Natale. Quando si riconosce di avere sbagliato, mio caro, bisogna avere il coraggio di chiedere scusa. Dai, dai. Tu ora le telefoni. Ma cosa le dico? Una prima cosa che ti viene in mente. Su. Non mi viene in mente niente, dai. Lascia stare. Ah, va bene, allora telefono io. Telefono io, lascia stare. Cosa le dici? Le dico... che ha interseppato la telefonata di Gabriele. Ma tu sei proprio matto, ti licenzo veramente. No, no, no. Metti giù, metti giù. Dai, 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 parla tu, parla giù. Sì, sì, e lei, dai, parla e non fare storie, su. Dai. Pronto, Maria Garanzia? Sì, sono io. Come non avevi riconosciuto la mia voce. Beh, hai ragione. Sì, da stamattina quando sono uscito senza salutarti. Sono cambiato, sono un altro. E ci ho pensato e mi sono sentito così ridico. Ridicolo e cretino. Maria Garanzia, è un secolo che non ci parliamo. Ho tante cose da dirti, sai. Bene, dimmele. Non ricomincerai mica con le solite storie. Sì, se ti ho tradito. E Andrea? E non te lo chiederò mai più. Ah sì? Davvero? Sì. È come se la febbre mi fosse calata di colpo, tutti insieme. Perché vedi, solo adesso mi sono reso conto che si trattava di una vera e propria malattia. Però quando è passata, è passata. Ma c'è sempre pericolo delle ricadute? Eh no, perché questa è come una malattia infantile, capisci? Come la scarlattina. Quando l'hai fatta, poi rimani immunizzato per tutta la vita. Diventi adulto. Sì. Sì. Ma questa non è mica mia. Di chi è? Ah, sarà del dottore. L'avrà dimenticato. Sì, ci sono anche le sigarette. Sì, sì. Ah. Pensa se fosse successo due giorni fa. Però immagini che cosa t'avrei combinato. E se ti dicessi che stai sbagliando di nuovo? No, 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 no. E che ti ho tradito? Non ci casco più, cara mia. No, no. Ormai la lezione l'ho imparata. E ho capito che nel matrimonio la fiducia è tutto. La notte che sono partito Non ho dormito pensando a te Avevo un presentimento E un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarmi Temevo di non vederti Sa chi mi ha parlato di lei? Giorgio. Qualsiasi cosa le abbia detto è un gran bugiato. Meno male Mi aveva detto che con lei non c'era niente da fare. Ah, ma bravo. Ci hai divertito a cortina? No, ero sempre sola. Senti Domani vorrei andare dal parrucchiere D'accordo? Ok. E allora quando ci vediamo? Domenica. Prima non posso. Vengo io da te se vuoi. Così possiamo stare insieme tutti il giorno. Non sta soltanto in cielo perché Lui ha cominciato da poco ma io sono anni. Ma no. Sì. Non ci credevo nemmeno io, sai. Eppure ho provato e mi sono trovato contento. Guarda, è come rinasce la nuova vita. È bellissimo. Ma bellissimo poi. Non è convinto. No, veramente non. E prova. Vieni a caccio con noi e te ne convincerai. Guarda, noi partiamo domenica mattina all'alba. Ucili di spalla. Guadagniamo in salute e ci passiamo una giornata felici e contenti. Non è vero, Mario? E come no. Ho dormito pensando a te Avevo presenti mentre un gran tormento dentro di me Sentivo di non trovarmi